Aveva accumulato un milione di debito con il fisco, è stata così dichiarata fallita una società di Andrea Moretti, figlio di Antonio, l'imprenditore del vino e della moda, entrambi coinvolti nella maxinchiesta della procura di Arezzo sul presunto autoriciclaggio da 25 milioni di euro. Si tratta di una ditta che operava nel settore dell'abbigliamento, la LM Retail SRL, di proprietà di una società di Moretti Junior, con sede a Siena, ma che da anni sarebbe stata una sorta di scatola vuota, non svolgeva infatti più alcune attività ed aveva accumulato un pesantissimo debito con il fisco, appunto un milione di euro. A chiederne il fallimento è stato il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi. La vicenda però non ha nulla a che fare con l'operazione dello scorso novembre della Guardia di Finanza che aveva portato agli arresti di Antonio e Andrea Moretti e di due stretti collaboratori, nonché a decine di indagati. La documentazione dell'azienda fallita è stata comunque trovata all'interno della sede del gruppo Moretti. Andrea al momento non si trova più agli arresti domiciliari dopo che il giudice aveva accolto la richiesta di revoca e disposto poi la misura interdittiva del ruolo di amministratore di società e il divieto di allontanamento dal territorio. Non è ancora invece tornato libero il patron della dinastia Moretti, ormai ai domiciliari da quattro mesi nella tenuta a Sette Ponti. Antonio Moretti si è visto infatti negare gli arresti domiciliari dal giudice Pier Giorgio Ponticelli. Adesso è tesa la decisione dei giudici del riesame.